Ciao a tutti, vi invito a seguire il brano di Clue de Krimen Show, Revolution the Night, il brano della cantatrice Ombra Clue, che parla appunto di come rivoluzionare la notte della notte delle emozioni che si provano nella notte appunto. Poi per ascoltare il brano e vedere anche il video ufficiale vi lascio il link in descrizione che trovate all'interno di questo video e poi attraverso quel link avete il collegamento al suo canale YouTube dove potete iscrivervi, attivare le notifiche e ascoltare tutti i suoi brani, tutte le sue canzoni e non perdervi nessun suo video ufficiale e restare aggiornati sulle prossime canzoni che a breve saranno in uscita. Per cui non vi resta altro che aprire il link in descrizione e ascoltare il brano Revolution the Night, vedere il video ufficiale e iscrivervi al suo canale YouTube, attivare le notifiche e non perdervi le sue canzoni e la sua musica.